È un periodo di festa dove c'è bisogno di mobilità, c'è bisogno di muoversi. Una limitazione al traffico crea sicuramente dei grossi problemi. Fine settimana dell'inmeaccolata a piedi anche per i possessori di veicoli diesel Euro 4. Una decisione che non piace ai commercianti, specialmente in un periodo pre-natalizio in cui i consumi aumentano. Anche il presidente di Ascom, Bertin, aveva criticato la scelta definendola un danno enorme per il commercio cittadino. Stessi toni usati dal presidente di Confesercenti Rossi. È il periodo dell'anno dove c'è un, almeno di solito, ora aspettiamo quest'anno a capire, però c'è un aumento dei consumi. Se andiamo a interferire in qualche modo, a ridurre il sistema, alla fine chi ne paga saranno le attività commerciali nei centri storici e nelle città. Sicuramente non la grande distribuzione che è al di fuori delle città. Se gli sforamenti dovessero continuare, potrebbe esserci un ulteriore innalzamento del blocco, andando a fermare anche i veicoli commerciali Euro 4. Qui non è questione dell'utilitaria, dell'uso che se ne fa. Qui si usa per lavoro. Ed è difficile sostituire, come dire, un furgone, uno strumento del lavoro ogni 3-4 anni. I problemi sono i costi. Le nostre microaziende non hanno quelle capacità economiche per rinnovare il parco auto in tempi stretti. Il blocco, l'eventuale blocco totale degli Euro 4 sicuramente creerà dei grossi problemi, dei grossi danni. Grazie.